ci sono due a te che hanno già vinto vado in gala i Caterini Stefaniti vinse nel 2016 e nel 2017 Magari Capenzo vinse l'ultima volta nel 2016 la versione è nell'asta che comincerà dai 4 e 31 la versione è l'ultima volta superato il 2 e il 3 e il 3 e attenzione al tempo di Gaia Zapatini perché secondo me ha demolito il suo primato personale aspettiamo il tempo di Gaia Zapatini dato un applauso per la vincitrice del Caterina della Petra Manea dell'asta Angelica Sidoroma 4 e 91 National Rekos of Belgium Magari Hals 4 e 2 16 e 3 con una situazione del meglio Gaia benigli applausi la curva e gli austri buongiorno e che sicuramente lo stagionale anche per Federica del Buono dopo praticeremo il tempo 4,08 e 5,08 per Federica del Buono primato stagionale anche qui ottima pure non si corre non si corre pochi a Federica è l'intima di Sanche perché Breda Starca ha appena superato il 2 e 33 intanto nel lungo spavano i 6,68 per Cromaci 6,64 il noncimano 6,50 la lista per superare 6,50 la lista per superare 6,50 Si sistema la pedana del muro perché c'è il terzo salto di un'altra ragazza azzurra, di una ragazza fiorentina, di Larissa Iapitino. Su con le mani Firenze. Le mani Firenze di Larissa Iapitino. Le mani Firenze di Larissa Iapitino. Le mani Firenze di Larissa Iapitino. Grazie mille. Grazie. Grazie.